Previsioni meteo per giovedì 6 agosto. Al nord, bel tempo prevalente, nel pomeriggio nuvolamenti a ridosso dei rilievi con possibilità di fenomeni su Alpi e Dolomiti. Al centro, prosegue fase di bel tempo, sporadiche piogge a ridosso dei monti, ma senza fenomeni degni di nota. Al sud, ancora bel tempo prevalente, locali acquazzoni nel pomeriggio su rilievi calabresi sicuri orientali. Venti, in prevalenza deboli. Mari, generalmente quasi calmi o poco mossi. Temperature, in ulteriore aumento.